85. Il totale è 12 euro e 88 centesimi. Ah no, a me risulta 12 euro e 85. Meglio rifare il conto, è più prudente. Sono 3 centesimi. La signorina si è sbagliata, va bene? Capita a tutti di sbagliarsi, mi pare. Oh, certa gente da non credere. Fine 2006? Sei sempre così tifio? No, per niente. Ti ricordo che mi hai mollata la sera del mio compleanno per non comprarmi il regalo. Una Quanto ho sul mio conto? 248.500 euro. Devo fare economia. Lei risparmia già molto. Si può fare di più. Le andrebbe di andare a bere qualcosa? Sì. Mi hai invitata a cena? No. Perché? Meglio se ti porti il banco, Matt. Avete cozze? Un piatto di cozze? Addirittura un piatto, forse è troppo un piatto. Potremmo averne una ciascuno? Risparmi quel bussante. Io sono tua figlia. Perché me l'hai nascosto? Che volevi che mi dicessi? Che suo padre è il più grande spiloccio del mondo? Io non posso ospitarti. 100 euro a settimana. Sei gentile, mando. 120? 140. Non è che tu sarai un po'... Un po' cosa? Ambientalista. Sì, un po', sì. Perché piomba così? Che vuole? Magari semplicemente cominciare a conoscerla meglio. Lei è molto ingenuo per un bancario. Arriva un momento nella vita in cui non c'è altra soluzione che pagare. Vampiro. Robben al cosse. Lo auditorio. La pubblicazione. Modificazione.